Capitolo 55 Cara, non desidero alcuna spiegazione da te, e non ti ascolterò se parli di questo, disse con fermezza Melania, posando dolcemente la sua mano sulle labbra di Rossella. Insulti te stessa, Ashley e me, se credi che occorra una spiegazione fra noi. Abbiamo affrontato il mondo insieme, come tre soldati, per tanti anni, e il solo pensiero che un pettegolezzo possa allontanarci mi farebbe vergognare. Credi che io possa sopportare che tu e il mio Ashley? Che idea! Non sai che io ti conosco meglio di quanto ti conosca chiunque al mondo? Pensi che abbia dimenticato il tuo meraviglioso altruismo verso Ashley, verso Bo, verso di me. Tutto ciò che hai fatto per salvarci e impedirci di morire di fame. Che abbia dimenticato quando seguivi nei solchi il cavallo Yankee, quasi scalza, con le mani piene di vesciche, perché il bimbo ed io avessimo qualcosa da mangiare. E potrei oggi credere simili e orrende cose sul tuo conto. Non voglio sentire una parola da te, Rossella o Ara. Non una parola. Ma... iniziò Rossella, poi si interruppe. Rhett aveva lasciato la città un'ora prima, con Diletta e Prissy, e alla vergogna e all'ira di Rossella si era aggiunta la desolazione. La sua coscienza, già aggravata dal peso della sua colpa con Ashley, non poteva sopportare anche il peso della difesa di Nelania. Se lei avesse creduto a Lydia e ad Arci, non le avesse rivolto la parola al ricevimento e l'avesse salutata freddamente, Rossella avrebbe tenuto la fronte alta e avrebbe combattuto con tutte le sue armi. Ma il ricordo di questa donna, che si era posta fra lei e la sua rovina sociale, come una lama sottile e lucente, con una fiamma di fede e di battaglia negli occhi, la turbava talmente che le sembrava doveroso confessare. Sì, rivelare tutto, dal principio, da quella chiara giornata di sole sotto il porticato di Tara. La voce della sua coscienza, una coscienza cattolica, benché soffocata per lunghi anni, si ridestava. «Confessa i tuoi peccati e fanne penitenza nel dolore e nella contrizione», le aveva detto Elena centinaia di volte. E in questa crisi l'educazione religiosa impartitale da sua madre si faceva viva nuovamente in lei. Avrebbe confessato tutto, sì, ogni parola e ogni sguardo, e le poche carezze. E allora Dio avrebbe alleviato il suo tormento e le avrebbe dato la spaventosa visione del volto di Melania che muta la sua espressione di affetto e di fiducia in quella di orrore e di repulsione. Oh, era una penitenza troppo atroce, dover ricordare per tutta la vita il viso di Melania, sapere che Melania conosceva tutta la sua infamia, tutta la slealtà e l'ipocrisia che erano in lei. Una volta, il pensiero di gettare sarcasticamente in faccia a Melania la verità e di vedere il crollo del suo stupido paradiso l'aveva eccitata. Le era sembrato un gesto per il quale valesse la pena di perdere poi anche tutto quanto. Ma ora le cose erano cambiate e non c'era nulla che Rossella desiderasse meno di questo. Non comprendeva il motivo. Nella sua mente si affollavano troppi pensieri in conflitto perché potesse afferrarli. Sapeva soltanto che, come una volta aveva desiderato che sua madre continuasse a giudicarla una ragazza modesta, dolce, dal cuore puro, così ora desiderava appassionatamente non perdere la stima di Melania. Non le importava di quello che la gente pensava di lei o di quello che Ashley o Rhett pensavano di lei. Ma Melania doveva continuare a giudicarla come l'aveva sempre giudicata. Aveva paura di dire la verità, ma uno dei suoi rari istinti onesti si era destato e non le permetteva di mentire ancora davanti alla donna che aveva lottato per lei e l'aveva difesa. Perciò si era affrettata ad accorrere a casa di Melania, non appena Rhett e Diletta erano partiti. Ma le prime parole balbettate da lei, «Melania, devo spiegarti la storia dell'altro giorno». Melania l'aveva interrotta imperiosamente. Rossella, guardando piena di confusione quegli occhi neri fiammeggianti di amore e di collera, aveva compreso, sentendo un tuffo al cuore, che la pace e la calma che seguono la confessione le sarebbero state negate. Melania aveva impedito che lei seguisse la linea di condotta che si era prefigurata, e Rossella, provando un'emozione che le era quasi estranea, comprese che togliersi dal cuore torturato il peso che lo primeva sarebbe stato un gesto di schietto egoismo. Si sarebbe scaricata del suo peso deponendolo nel cuore di una persona innocente e fiduciosa. Il debito di gratitudine verso Melania per la sua coraggiosa difesa non poteva essere pagato che con il silenzio. Che crudeltà sarebbe stata a rovinarle la vita con la rivelazione che suo marito le era stato infedele con la sua amica più cara. «Non posso dirglielo», pensò desolata. «Non potrò mai, neanche se la mia coscienza mi uccidesse». Ricordò l'osservazione è fatta le darete ubriaco. È troppo onesta per concepire la disonestà nelle persone che ama, e ciò sarà una delle tue croci. Sì, sarebbe stata la sua croce, fino al giorno della morte. Conservare silenziosamente quel tormento, portare il cilicio dell'onta, sentirsi pungere da esso ad ogni sguardo e ad ogni parola affettuosa di Melania. Dominare continuamente l'impulso di gridarle «Non essere così buona! Non mi difendere! Non lo merito!» «Se non fosse così dolce, fiduciosa, semplice, sciocchina, non sarebbe tanto difficile», pensò disperata. «Ho sopportato tanti gravosi pesi, ma questo sarà il più gravoso e il più doloroso di tutti». Seduta di fronte a lei, su una poltrona bassa, con i piedi posati su un divano molto più alto, un atteggiamento che non avrebbe mai preso se non fosse stata così adirata da dimenticare perfino le convenienze, Melania aveva in mano un lavoro a maglia e spingeva i ferri con tanta furia, come sciabole in un duello immaginario. Se Rossella fosse stata in preda ad una simile collera, avrebbe pestato i piedi a terra, avrebbe strepitato come Gerald ai suoi bei tempi, chiamando Dio a testimone della perfidia del genere umano e pronunciando sanguinose minacce di rappresaglia. Ma in Melania solo il ferro lucente e le delicate sopracciglia aggrottate rivelavano che bolliva internamente. La sua voce era fredda e le parole più taglienti del solito. Parole piene di forza, che le erano assolutamente nuove, perché Melania di rado esprimeva un'opinione propria e non pronunciava mai una frase sgarbata. Rossella si rese conto in quell'istante che i Wilkes e gli Hamilton erano capaci di collere che uguagliavano e superavano quelle degli O'Hara. Ero stufa di sentire la gente che ti criticava, tesoro, stava dicendo Melania. Ma questa è stata l'ultima goccia che ha fatto traboccare il vaso, e ti assicuro che provvederò io. Questo accade perché tutti sono gelosi di te, della tua abilità e dei tuoi successi. Sei riuscita dove molti uomini avrebbero fatto fiasco. Non ti irritare, cara, se dico questo. Non intendo offendere la tua femminilità, come molti hanno fatto. La gente non ti comprende, e poi la maggioranza non tollera che una donna sia intelligente. Ma tutto ciò non dà a nessuno il diritto di dire che tu ed Ashley... caspita! La lieve vehemenza di questa esclamazione assumeva sulle sue labbra un valore specialissimo. Quanto a quelli che vengono a raccontarmi le menzogne che hanno macchinato... Archie, Lydia, la signora Helsing, come hanno osato! Veramente la signora Helsing non è venuta qui, ma ti ha sempre odiata, cara, perché tu eri più corteggiata di Fanny. Ed era irritatissima quando tu hai tolto ad Hug la direzione della segheria. Ma hai fatto benissimo, perché Hug è un buono a nulla. E così, in poche parole, Melania liquidava il compagno della sua infanzia e il corteggiatore della sua adolescenza. Per quanto concerne Archie, il torto è mio. Non avrei dovuto dare alloggio a quel vecchio furfante. Me lo avevano detto tutti, ma non ho voluto dar retta. Lui non aveva simpatia per te, a causa di quella storia dei galeotti. Ma chi è costui per permettersi di criticarti? Un assassino, e per di più l'assassino di una donna. Dopo tutto quello che ho fatto per lui, mi viene a dire. Ti assicuro che se Ashley lo avesse ucciso non mi sarebbe dispiaciuto affatto, ma l'ho messo alla porta e so che ha lasciato la città. E quell'ignobile Lydia, fin dalla prima volta che vi ho viste insieme, tesoro, mi sono accorta che era invidiosa di te e ti detestava perché eri molto più bella e avevi tanti innamorati. Ti detestava specialmente a causa di Stuart Tarleton e ha talmente pensato al povero Stuart che... mi dispiace dirlo, trattandosi della sorella di Ashley, ma temo che abbia proprio perso il cervello. Non c'è altra spiegazione possibile per il suo modo di agire. Le ho detto che non rimetta più piede in questa casa e se vengo a sapere che osa diffondere le sue infami calunnie, le darò della bugiarda in pubblico. Melania si interruppe. Improvvisamente la collera che le accendeva il volto fu sostituita da un'espressione di dolore. L'appassionato sentimento che i georgiani nutrivano per la famiglia la rendeva particolarmente sensibile alle liti con i parenti. Ebbe un attimo di esitazione. Ma Rossella era più cara. Rossella aveva il primo posto nel suo cuore, perciò lei continuò con coraggio. Era perché io ti volevo più bene, mia cara, ma non verrà mai più qui ed io non entrerò mai in una casa dove lei sia ricevuta. Ashley è d'accordo con me, ma è addolorata. che sua sorella abbia inventato una simile… Udendo il nome di Ashley, i nervi sovrecitati di Rossella cedettero e scoppiò in pianto. Possibile che dovesse sempre infliggergli pugnalate. Non aveva avuto altro pensiero che di renderlo felice, eppure lo feriva continuamente. Aveva distrutto la sua vita, il suo orgoglio e la sua dignità, frantumato quella pace interiore, quella calma basata sull'integrità e sull'onestà. E ora l'aveva allontanato dalla sorella, che lui amava teneramente. Per salvare la propria reputazione e la felicità di sua moglie, lui aveva dovuto sacrificare Lydia, lasciare che questa apparisse una zitellona calunniatrice, quasi folle di gelosia. Lydia, che era assolutamente giustificata nei sospetti che aveva sempre nutrito e nelle parole che aveva pronunciato. Guardando negli occhi sua sorella, Ashley avrebbe visto sempre la verità e il rimprovero, insieme al freddo disprezzo nel quale i Wilkes erano maestri. Sapendo che Ashley valutava l'onore più della vita, Rossella non dubitava che dovesse soffrire terribilmente. Anche lui era costretto a ripararsi dietro le gonnelle di Melania. Benché Rossella riconoscesse la necessità di questo, e sapesse di essere la principale responsabile dei problemi di Ashley, pure, con logica tutta femminile, avrebbe trovato più degno di rispetto se avesse ucciso Archie e confessato tutto a Melania e al mondo intero. Sapeva di essere ingiusta, ma era troppo infelice per fermarsi a considerare i particolari. Qualcuna delle parole sprezzanti di Rhett le ritornarono in mente, e si chiese se Ashley si era dimostrato, in quella circostanza, un vero uomo. E per la prima volta, l'aureola che lo aveva circondato da quando si era innamorata di lui, cominciò ad oscurarsi impercettibilmente. Cercò di scacciare quel pensiero, ma non riuscì che a piangere più forte. «No, no!» esclamò Melania, lasciando cadere il suo lavoro e gettandosi verso Rossella. L'abbracciò facendole posare la testa sulla propria spalla. «Non avrei dovuto parlare di tutto questo e darti tanto dolore, ma non ne parleremo mai più, no, né fra noi né con nessuno, come se non fosse mai accaduto nulla. Ma...» soggiunse con tranquilla malignità. «Farò vedere a Lydia e alla signora Helsing chi sono io. Non devono credere che sia lecito spargere impunemente delle calunnie sul conto di mio marito e di mia cognata. Le metterò in condizione che non potranno più guardare in faccia nessuno ad Atlanta, e chiunque le riceverà o crederà alle loro chiacchiere sarà mio nemico!» E Rossella, guardando dolorosamente verso la lunga serie di anni futuri, comprese che per causa sua si era scavato un abisso che avrebbe diviso la città e la famiglia per intere generazioni. Melania mantenne la parola. Non parlò mai più dell'incidente, né con Rossella né con Ashley. Ne voleva discutere la cosa con nessuno. Conservò un'aria di fredda indifferenza che diventava addirittura glaciale se qualcuno osava fare la minima allusione. Durante le settimane che seguirono il suo ricevimento, mentre Rhett era misteriosamente assente e la città era in una frenesia di chiacchiere e di eccitazione, non diede tregua ai detrattori di Rossella, fossero pure suoi parenti. Non parlò, ma agì. Non si staccava dal fianco di Rossella. Aveva preteso che questa continuasse ad andare ogni giorno al negozio e al magazzino del legname, e vi si recava con lei. Insistette perché uscisse ogni pomeriggio in carrozza, per quanto Rossella non amasse e sporsi agli sguardi curiosi dei suoi concittadini. E Melania era in carrozza con lei. La condusse con sé a fare delle visite, costringendola dolcemente a recarsi nei salotti in cui Rossella non andava da un paio d'anni. E Melania, con l'aspetto fiero di chi dice, chi vuol bene a me deve voler bene al mio cane, faceva conversazione con l'ospite stupita. Si recavano di buon'ora in quei salotti e vi rimanevano finché l'ultima visitatrice se n'era andata, privando così le signore della gioia di spettegolare sul loro conto. Quelle visite erano un vero tormento per Rossella, che peraltro non osava rifiutarsi di accompagnare Melania. Detestava trovarsi in mezzo a gruppi di donne che nel loro intimo si chiedevano se fosse stata veramente sorpresa in flagrante adulterio, e sapeva che nessuna di quelle donne le avrebbe rivolto la parola se non avessero voluto bene a Melania e non avessero tenuto alla sua amicizia. E, dopo averla ricevuta una volta, non potevano certo toglierle il saluto in seguito. Era caratteristico il fatto che ben poche persone difendevano Rossella, basandosi sulla sua onestà personale. Si era fatta a troppi nemici per poter avere dei difensori. A nessuno importava che lo scandalo la colpisse, ma nessuno voleva offendere Melania o Lidia, e la tempesta infuriava attorno a loro, accentrandosi su una domanda. Lidia aveva mentito? Quelli che sposavano il punto di vista di Melania accennavano trionfanti al fatto che la signora Wilkes era sempre con Rossella in quei giorni. Una donna che aveva i suoi saggi principi si sarebbe mostrata in pubblico con una donna colpevole, specialmente colpevole con il proprio marito? No, davvero. Lidia era una zitella acida, che odiava Rossella, e aveva mentito, inducendo Archie e la signora Helsing a credere alle sue menzogne. Ma, dicevano i partigiani di Lidia, se Rossella non è colpevole, dove è il capitano Butler? Perché non è accanto a sua moglie a difenderla con la sua presenza? Domanda che rimaneva senza risposta. E quando con il passare delle settimane si sparse la voce che Rossella era incinta, i partigiani di Lidia si stropicciarono le mani soddisfatti. Non poteva essere stato il capitano Butler, dicevano. Da troppo tempo la loro separazione di letto era cosa di pubblico dominio, e la città ne era stata scandalizzata. E i pettegolezzi corsero, dividendo la città in due campi, e costringendo anche i circoli familiari a prendere un partito. Non esisteva terreno neutro. Melania con la sua fredda dignità, e Lidia con la sua acida amarezza ne prendevano atto. Ma in qualunque campo si schierassero i parenti, tutti erano pieni di risentimento al pensiero che proprio Rossella fosse stata la causa di quella frattura nell'armonia familiare. Non ne era degna. Però tutti quanti deploravano ugualmente che Lidia avesse lavato i panni sporchi dalla famiglia in pubblico, coinvolgendo Ashley in uno scandalo così deplorevole. Ma ora che aveva parlato, molti corsero in sua difesa, e presero le sue parti contro Rossella, mentre altri, affezionati a Melania, rimasero al fianco delle due donne. La metà di Atlanta era parente o mezza parente di Melania e di Lidia. Le ramificazioni di cugini, in terzo e quarto grado, di parenti acquisiti, erano così complicate che nessuno che non fosse nato in Georgia avrebbe potuto mai districarle. Era stata sempre una specie di tribù, che aveva presentato al mondo un fronte compatto nei momenti gravi, qualunque fosse stata l'opinione privata di ognuno sulla condotta dei parenti presi uno per uno. Ad eccezione della guerriglia condotta da zia Pitti contro suo fratello Henry, e che era stata oggetto di gaie risate per tutta la famiglia per molti anni, non si aveva memoria di un'aperta rottura tra consanguinei. Era gente garbata, educata, riservata, e non si abbandonava neppure agli amabili battibecchi che caratterizzavano quasi tutte le famiglie di Atlanta. Ma ora la rottura era profonda, e la città assisteva al fatto che cugini, in quinto e sesto grado, si schieravano da una parte o dall'altra nello scandalo più grave che Atlanta avesse mai visto. Il tatto e la tolleranza di quelli che non erano parenti furono posti a dura prova, perché la rottura fra Lidia e Melania portò il disordine in quasi tutte le organizzazioni sociali. Il gruppo dei seguaci d'Italia, il circolo del lavoro per le vedove e gli orfani della Confederazione, l'associazione per l'abbellimento delle tombe dei gloriosi caduti, il circolo musicale del sabato sera, la società delle serate di danza delle signore, la biblioteca dei giovani erano coinvotti. E anche quattro chiese, con le associazioni femminili e missionarie. Bisognava essere molto cauti per evitare di mettere in uno stesso comitato membri delle due fazioni rivali. Nei giorni di ricevimento le signore erano angosciate per il timore che Melania e Rossella giungessero, mentre Lidia e i suoi fautori erano nel salotto. La povera zia Pitti fu quella che soffrì più di tutti. Pitti, che non desiderava se non vivere comodamente circondata dall'affetto dei suoi parenti, sarebbe stata ben felice, in quella circostanza, di correre con le lepri e cacciare con i cani. Ma né lepri né cani lo permisero. Lidia abitava con zia Pitti, e se Pitti avesse parteggiato per Melania, come era a suo desiderio, Lidia se ne sarebbe andata. E se Lidia se ne fosse andata, che cosa avrebbe fatto la povera Pitti? Sola non poteva certo vivere. Avrebbe dovuto prendere in casa un'estranea, oppure chiudere casa e andarsene ad abitare con Rossella. Ma zia Pitti aveva la vaga sensazione che il capitano Butler non ne sarebbe stato entusiasta. Oppure andare da Melania e dormire nella cameretta di Bo. Pitti non aveva un particolare affetto per Lidia, perché questa la intimidiva con la sua rigidezza e con le sue accuse vehementi. Ma la presenza di lei le permetteva di conservare le sue comodità, e Pitti si lasciava guidare dalla propria comodità, più che da scrupoli morali. Quindi Lidia rimase. Di conseguenza la casa di zia Pitti divenne l'occhio del ciclone, perché Melania e Rossella interpretarono il gesto della donna come un'adesione al partito di Lidia. Rossella rifiutò seccamente di continuare a contribuire al mantenimento di Pitti finché Lidia viveva sotto lo stesso tetto. Ashley mandava ogni settimana del denaro a Lidia, la quale fieramente e in silenzio lo restituiva, con grande meraviglia e rammarico della vecchia signorina. Le finanze della casa di mattoni rossi sarebbero state disastrose se non fosse intervenuto zio Henry, ma Pitti fu molto umiliata di dover accettare il suo aiuto. Pitti amava Melania più di chiunque altro al mondo, eccetto se stessa, ed ecco che Melania si comportava come un'estranea, fredda nella sua cortesia. Benché abitasse quasi nel cortile dietro la casa di Pitti, non attraversò mai più la siepe divisoria, come usava fare una decina di volte al giorno. Pitti si recò da lei e pianse reclamando il suo affetto e la sua devozione, ma Melania si rifiutò di discutere l'argomento e non le fece visita. Pitti sapeva benissimo ciò che doveva a Rossella. Quasi la vita. Nei tristi giorni dell'immediato dopoguerra, quando si era trovata di fronte all'alternativa di morire di fame o unirsi al suo fratello Henry, Rossella aveva sostenuto le spese della casa, l'aveva nutrita e vestita e le aveva permesso di rimanere a testa alta nella società di Atlanta. E da quando si era sposata ed era andata nella sua nuova casa, era stata di una generosità senza pari. E quello spaventoso e affascinante capitano Butler, ogni volta che andava a farle visita con Rossella, Pitti trovava, dopo la loro partenza, una borsetta nuova stipata di banconote sulla mensola del camino, o un fazzoletto di pizzo annodato pieno di monete d'oro, che era stato timidamente infilato nella sua scatola da lavoro. Rhett assicurava sempre di non saperne nulla e la accusava, in modo poco elegante, di avere un ammiratore segreto, di solito il nonno Merriweather, dalle folte basette. Sì, Pitti provava affetto per Melania, riconoscenza per Rossella. E per Lydia che cosa provava? Nulla. Inoltre la presenza di Lydia la costringeva ad interrompere il suo piacevole modo di vivere. Era doloroso e volgare, e Pitti, che in vita sua non aveva mai preso una decisione, lasciò che le cose seguissero il loro corso. Il risultato fu che la vecchia signorina sparse molte lacrime desolate. C'era infine qualche persona di buon cuore che credeva nell'innocenza di Rossella, non per le sue virtù personali, ma perché Melania ci credeva. Taluni avevano delle riserve, ma erano gentili con lei e andavano a farle visita perché volevano bene a Melania e desideravano conservare la sua amicizia. Gli aderenti al partito di Lydia la salutavano freddamente. Qualcuno le tolse anche il saluto. Questo era imbarazzante e irritante, ma Rossella si rese conto che se Melania non avesse preso le sue difese, tutta la città sarebbe stata contro di lei e l'avrebbe messa al bando.